Diciamoci la verità, questo sarà meno popolare, andrebbe fatta una riforma regolamentare perché l'assenteismo in una certa misura è fisiologico, perché in questo Parlamento si parla troppo. Ci sono lunghissime sessioni in cui la mentalità italiana per la quale io faccio un discorso e trascinerò con me tutta l'Assemblea, cambieranno tutti il loro parere e voteranno come dico io. Non succede mai, si prende la parola in aula per dire brevemente la propria posizione. Nel Parlamento europeo tre minuti è un tempo lunghissimo per un intervento, se devo dire sostanzialmente come voterò e perché, tre minuti bastano. Se voglio tentare di convincere 630 deputati a cambiare la loro opinione, non bastano sei ore. Scusi se riduco per i nostri ragazzi, in soldoni un tetto di discussione. Come il Parlamento europeo. Lo spazio per discutere è in commissione, in commissione talvolta si riesce a convincere di convincere. Mentre in Parlamento poniamo un tetto. In aula. Cioè nella fase di discussione anche tecnica, se ho ben capito, ci si può anche dilungare nei cavigli eccetera. Poi in Parlamento e così si accorcerebbero anche un bel po' tempo. E si eviterebbero quelle riprese nelle quali c'è l'aula vuota in cui uno parla e non c'è nessuno.